Non c'è correlazione tra la comparsa di malattie e l'esposizione al Taglio e a Pietrasanta Centro nella frazione di Val di Castello. Lo ha evidenziato lo studio epidemiologico per la valutazione dell'impatto dell'esposizione a Taglio a seguito della contaminazione dell'acquedotto di Val di Castello e Pietrasanta Centro, studio condotto dall'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. I risultati sono stati presentati stamani nel chiostro a Pietrasanta alla presenza di esponenti dell'ASL, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Amministrazione Comunale e Gaia. Lo studio ha analizzato 33.708 persone residenti nel comune di Pietrasanta e ne ha studiato le dinamiche tra gli anni 2000 e 2015. In particolare sono stati monitorati i decessi e i ricoveri ospedalieri nelle zone esposte al Taglio e paragonate alle altre zone della città. Quello che è emerso è che non c'è alcuna differenza tra chi risiede nell'area di esposizione e chi risiede in altre aree. Al contrario, sono maggiori i segnali di una minore mortalità nelle aree di esposizione. In seguito alla vicenda Taglio, gli acquedotti di Val di Castello e Pietrasanta sono stati inseriti nel piano di sicurezza delle acque. Il piano ha fornito a Gaia un ottimo strumento non solo di analisi, ma anche di prevenzione. Dall'inizio dell'emergenza Gaia ha sostituito e postato circa 7.500 metri di tubazione e Pietrasanta durante il periodo di emergenza e 6.500 metri di nuove condotte in polietiliene nella frazione di Val di Castello. 331 sono i punti di campionamento sulle acque inserite nel piano di monitoraggio. Durante il periodo di emergenza sono state effettuate 49 analisi ogni settimana. I lavaggi con l'innovativo sistema di miscela di acqua, aria e anitride carbonica hanno interessato invece 6.300 metri di tubazioni.